Il Signore benedica questa esposizione parla di passione, ricordi, desideri, cose molto belle che coltivavano il nostro cuore e l'unità quotidiana. Paglio, figlio e spirito santo. Adesso aspettate lì che faccio nel forno. Allora, come tutti gli anni dal 2015, anche quest'anno, siamo all'evento principale di fine anno del motoclore bustese. L'evento riguarda soprattutto la beneficenza. Noi tutti gli anni cambiamo l'ente a cui daremo il nostro obol e la nostra beneficenza. Quest'anno tocca a progetti fantasia che si occupano di ragazzi e di bambini, qualcuno è autistico, qualcuno ha dei problemi comportamentali, eccetera. E' un'associazione del territorio di Bustarsizio, quindi noi ci teniamo principalmente a favorire le attività e le associazioni del nostro territorio. D'altra parte abbiamo una esposizione di moto, abbiamo una sessantina di moto che vanno dal 1900 fino a oggi, fino al 2023. Quindi stiamo spaziando con tutti i tipi di moto d'epoca, da corsa, fuoristrada e moderni, in modo da avere una panoramica del mondo motociclistico a 360 gradi. In fondo ci sono due isole che con le moto Harley Davidson e le BMW, perché la BMW compie 100 anni quest'anno e la Harley Davidson ne compie 120. Quindi ogni anno noi cerchiamo di celebrare un evento e comunque un compleanno di qualche marca di moto. Voglio innanzitutto ringraziare i concessionari che sono intervenuti portando le loro moto, il concessionario Ceriani di Bustarsizio, i concessionari Ducati e soprattutto il concessionario Harley Davidson Gazzada che si è prestato per quest'opera di beneficenza portandoci ben quattro moto. Serviranno sicuramente a svegliare ancora di più l'interesse verso questa manifestazione. Ancora grazie a tutti. La manifestazione quest'anno insomma è un connotato che è rivoluzionario rispetto agli anni precedenti. Infatti oltre a portare le moto con scopo tematico sono stati invitati tutti i soci a portare le proprie moto ed è stato un grande successo. Abbiamo una rappresentanza di moto che va dal inizio novecento fino al 2023 con moto di carattere iconico o delle instant classic. da notare tra queste la moto che è sul palco dell'esposizione principale che è un MV super veloce e che rappresenta oggi lo stato dell'arte maggiore della casa costruttrice. dell'instant classic come la Ducati Super Sport Argento con la quale è stato vinto diverse gare e in generale tutte le moto dei nostri soci che con tanta passione le hanno restaurate o conservate negli anni. e tutto questo è fatto per fare del bene, per dare la possibilità all'associazione Progetto Fantasia di raccogliere fondi affinché possano finanziare il recupero, lo stare vicino e lo stare insieme con loro ragazzi. Per noi è un motivo di grande orgoglio poter partecipare a questa opera di beneficenza e ci auguriamo che, anzi ne sono certo, la partecipazione sarà numerosa e quindi sarà un grande successo. Grazie a tutti e grazie anche alla nostra intervistatrice. Niente, io mi auguro che questa Kermes che facciamo nei due giorni sia una beneficenza maggiore per progetti a fantasia e per il nostro motoclub che siamo tutti d'accordo a fare questi eventi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.